E allora ancora oggi una buona giornata a base di suono e un suono molto retro style e il suono di una replica del celebre eco a nastro Roland 201. Sentiamo subito a varie testine magnetiche, sentiamo questa. Proviamo un altro sessione. Questa è diversa. Ancora. Qui abbiamo... Diciamo uno slapback tipo Rockabilly. Proviamo un altro formato. Diciamo... 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 Ipnotico. Proviamo ancora un altro. Questo è più convenzionale. questo è corto molto rockabilly ed era il Roland 201 retro style ricreato dalla Boss Roland digitalmente buona giornata